Tempo d'estate, tempo di peperoncino, ma non sapete che in Carnia si fa il peperoncino. Questa è stata una scoperta, un'emozione molto forte, a caneva esattamente di Tolmezzo, grazie a due personaggi, in particolare uno che è Pietro De Crignis, che ha ideato, che ha pensato che lì si potesse fare, aiutato da Marco Catarinuzzi, e soprattutto da un gruppo di ragazzi diversamente abili che fanno parte della comunità Pier Giorgio di Udine, che lì lavorano e aiutano. Allora, sì, è vero, in Carnia si fa un peperoncino straordinario. Pensate che ci sono circa 150 varietà piantate, una parte delle quali vengono usate per formare diversi blend di peperoncini più o meno aggressivi, come pensiamo noi, più o meno profumati, anzi, tutti molto profumati. Come mai il peperoncino in Carnia? La scoperta, oppure la riflessione per capire come mai, mi viene dal mio passato di vignaiolo nella vita precedente. I profumi nell'uva, pensiamo al Sauvignon, per esempio, nascono da escursioni termiche molto elevate. Il motivo per cui i Sauvignon vengono bene in Friuli Venezia Giulia e vengono meno bene dal punto aromatico in Sicilia è dovuto a questo. Tra notte e giorno, durante la vendemmia, se ci sono grandi escursioni, si formano i profumi nell'uva. La stessa cosa accade per il peperoncino. Assaggiando i vari blend di questi peperoncini che loro preparano per vendere in mini scatolette, in minuscole scatolette, si nota uno sviluppo aromatico veramente straordinario, che non ha nulla a che vedere con quello, per esempio, più famoso e certamente più importante come produzione che si fa, ad esempio, in Calabria. In effetti, il piccante resta lo stesso. Non è che sia meno piccante. Quello che cambia è l'aspetto aromatico. Mentre al sud l'aspetto aromatico è uniforme, non è polifonico, qui in Carnia abbiamo dei toni di profumo straordinari. Si colgono la pesca, l'albicocca e quindi dà una possibilità ai cuochi di giocare in cucina, giocare tra virgolette ovviamente, davvero uniche. Quindi è un peperoncino che dà piccante, che dà sostanza al gusto, ma che dà profumo. Loro piantano i peperoncini, li selezionano, addirittura sono arrivati a creare un peperoncino molto forte che l'hanno inserito nella banca del peperoncino che è a Città del Messico, dove ci sono 3.500 varietà di peperoncino catalogate e stoccate. Tutta la raccolta del mondo pare sia in quella banca del peperoncino a Città del Messico. Ovviamente in cucina l'uso del peperoncino, sapete, è straordinario. Ad esempio sta molto bene un pizzico di peperoncino nella pasta ai fagioli, perché no? Per andare sulle nostre ricette. Chiaramente la pasta, tante altre situazioni che noi pensiamo non vada bene, ci vanno bene. Basta provare. Questa è l'innovazione in cucina, accanto alla tradizione è l'innovazione. Quella del peperoncino in Carnia è l'esempio di come si può innovare in agricoltura e in cucina, scoprire nuovi siti grazie a delle riflessioni e ragionamenti che si fanno per trovare nuove opportunità di lavoro, in questo caso anche benefiche come in questa azienda che si chiama peperoncino di Carnia. e poi dare motivo ai nostri chef di continuare questa lunga storia dell'ibridazione che ha la nostra cucina, dove tutte le civiltà sono passate e ognuna di esse ha lasciato qualcosa. Noi siamo il risultato di questa ibridazione che continua.